Quanti soldi guadagnano veramente i venditori su Amazon? Abbiamo già parlato diverse volte in tanti altri video di questo argomento ma questo video è speciale perché ti darò tantissime tantissime statistiche concrete su quanto guadagnano i venditori, qual è il profitto, la marginalità quanto tempo ci vuole per iniziare questo business quanti soldi ci vogliono è tutto basato su delle statistiche estratte da un report di Jungle Scout quindi una fonte ufficiale con tante tante ricche informazioni E prima di partire ti voglio invitare a giocare con me il gioco è molto semplice per vincere dovrai semplicemente guardare questo video e raccogliere due pezzi di codice segreto che io ti darò durante il video metterai insieme i due pezzi seguirai il link in descrizione e ti porterai a casa una guida un regalo fantastico che altrimenti non riusciresti mai ad avere seguimi e partiamo subito 42.000 euro di profitto all'anno questa è la prima statistica ed è quello che in media si portano a casa i venditori su Amazon dalle statistiche ufficiali 42.000 euro di profitto all'anno e adesso andremo esattamente a vedere delle statistiche interessantissime su come fanno questa cosa innanzitutto andiamo a vedere perché Amazon cioè perché scelgono Amazon allora dagli appunti che mi sono preso il 44% delle persone iniziano a vendere su Amazon perché vogliono lavorare per se stesse vogliono essere il boss di se stessi come si dice essere autonomi non dipendere da nessuno ma non solo due persone su cinque vogliono un guadagno extra quindi non hanno intenzione magari di dedicarsi solamente al business di Amazon ma semplicemente vogliono aggiungere un reddito a quello che guadagnano già e anche questo è molto molto interessante e un'altra parte l'altra parte di questi venditori cerca la flessibilità la flessibilità nel poter dedicarsi quando vogliono le ore che vogliono e il posto quindi magari potendo viaggiare o potendo fare quello che viene chiamato ultimamente insomma i nomadi digitali per cui queste sono le motivazioni principali per cui le persone iniziano a vendere su Amazon ma andiamo a vedere il fatturato quindi quali sono le statistiche e quali sono le percentuali dei venditori e quanto fatturato fanno allora la prima cosa interessante è che il 44% dei venditori fanno un fatturato circa dai 1.000 ai 25.000 euro al mese e abbiamo un 19% dei venditori che fanno un fatturato dai 25.000 ai 250.000 euro di fatturato al mese per cui puoi immaginare che sono diciamo dei bei numeri il 6% fanno un fatturato oltre i 250.000 al mese che ovviamente sono più di 3 milioni all'anno quindi il 6% fanno quei fatturati e poi abbiamo un 26% che fanno meno di 1.000 euro al mese di fatturato e addirittura un 4% boh un 4% boh vuol dire che questi venditori non sanno esattamente quanto fatturato stanno facendo ed è bellissimo parlare di fatturato ma sicuramente la cosa che ti starai chiedendo è va benissimo va di ma qual è il profitto quindi di cosa parliamo come profitto e ci arriviamo in questo momento in questo istante dove ti dico già che il 68% ha realizzato un margine maggiore del 10% interessante poi abbiamo un 36% che ha realizzato un margine maggiore del 20% su Amazon quindi parlando di profitabilità un 8% che non è profitevole e un 8% boh che non sa quanto sta guadagnando per cui la cosa interessante è che ovviamente la maggioranza delle persone sono profitevoli e hanno realizzato mediamente un margine del circa 18% quindi queste sono statistiche molto interessanti andiamo oltre ma prima di andare oltre ti voglio dare il primo pezzo del codice segreto il primo pezzo del codice segreto è Bologna oltre'altro Napoli quindi è Bon perfetto andiamo avanti e la prossima cosa da sapere è quanti soldi effettivamente questi venditori si portano a casa quindi andiamo avanti con le nostre fantastiche statistiche il 38% si è portato a casa più di 25.000 dollari da quando hai iniziato a vendere su Amazon quindi in totale da quando hai iniziato a vendere si è portato a casa più di 25.000 dollari e addirittura il 6% è diventato milionario grazie ad Amazon il 6% quindi il 6% delle persone che vendono su Amazon sono diventate milionarie grazie ad Amazon ma l'altra domanda interessantissima è il tempo quindi quanto tempo effettivamente ci vuole per andare in profitto la cosa interessante è che il 64% dei venditori è già stato profittevole già nel primo anno quindi tu sai benissimo che quando inizia un'azienda nuova di solito il primo anno si fa fatica ad andare a profitto perché è normale per ogni startup per ogni azienda il primo anno magari se chiudi a pari è già buono ecco tieni conto che il 64% dei venditori su Amazon sono stati profittevoli già durante il primo anno ma vediamo anche con quanti soldi sono partiti interessante questa cosa sapere quanti soldi ci vogliono perché perché tante volte si dice ma ci vogliono tanti soldi ci vogliono pochi soldi vediamo le statistiche il 58% è partito con meno di 5000 dollari il 58% è partito con meno di 5000 dollari addirittura il 28% è partito con meno di 1000 dollari non è fantastico ma la cosa più interessante che è stata trovata è che c'è una correlazione con la somma investita e il successo quindi è stato trovato che chi è partito con meno soldi ha avuto più successo è una cosa molto curiosa e presumo che sia stato per il fatto che magari chi è partito subito con tanti soldi magari si aspettava di metterci più soldi e di realizzare dei super guadagni nel breve tempo invece chi è partito con meno soldi è partito in maniera più prudente ma ha detto investo pian pianino man mano che vedo i risultati e poi man mano cresco ed effettivamente c'è una correlazione positiva tra chi ha investito meno soldi e ha avuto più successo il tempo quanto tempo bisogna dedicare a questa attività questa è una cosa molto interessante perché in realtà il 59% dei venditori dichiara che hanno investito meno di 20 ore a settimana circa 3 ore al giorno per cui la maggioranza dei venditori ci dedica meno di 20 ore a settimana circa 3 ore al giorno il 17% ci dedica circa 30 minuti al giorno quindi ci sono dei venditori che effettivamente ci dedicano mezz'oretta al giorno e un 6% dedica più di 60 ore a settimana quindi è come se si facessero 5 giorni lavorativi da 12 ore o 6 giorni lavorativi da 10 ore giusto? quindi 10 ore al giorno da lunedì al sabato e fatalità la cosa curiosa sai qual è? che prima avevamo visto una statistica dove c'era il 6% che fatturava più di 250 mila euro al mese di fatturato quindi più di 3 milioni all'anno e lo stesso 6% abbiamo qua che dedicano più di 60 ore a settimana non ti suona un po' familiare quindi chi ci dà dentro veramente di brutto è quello che poi ha poi magari maggior probabilità di successo quindi è una cosa molto importante ma la domanda più importante è questa come facciamo a portarci a casa quei 42 mila euro di profitto annuo in media poi c'è chi sarà più bravo e chi sarà meno bravo e qui ti voglio dare dei consigli importanti mi sono fatto degli appunti allora innanzitutto il 66% dei venditori consiglia di partire subito infatti uno dei maggiori rimpianti insomma dei venditori è di non essere partiti prima partire subito anche con poco capitale ma partire e fare perché la perfezione sostengono loro la perfezione è il maggior nemico del successo avere tutto perfetto il prodotto perfetto la pagina prodotto perfetta la ricerca l'analisi di mercato perfetta non ti porterà da nessuna parte partire cominciare a caricare i primi prodotti a vedere le prime vendite e fare i primi risultati questo ha più probabilità di successo che altro l'altro appunto che mi sono fatto è dove va dedicato maggiormente il tempo quindi i venditori di successo dicono che hanno bisogno di tempo per effettivamente cercare nuovi prodotti fare l'analisi di mercato e lanciare nuovi prodotti infatti per questo motivo l'80% dei venditori che vendono su Amazon dicono che venderanno anche l'anno prossimo per cui vuol dire che sono profitevoli sono contenti e vogliono continuare a vendere su Amazon hanno bisogno di tempo per cercare nuovi prodotti fare l'analisi di mercato e lanciare nuovi prodotti e l'altra parte dei venditori sostiene che avere gli strumenti giusti e le informazioni giuste sono quelle che fanno la differenza tra il successo e il fallimento di un venditore su Amazon ed è per questo motivo che prima di darti il secondo pezzo del codice segreto ti voglio invitare anche a sfruttare l'occasione di avere delle informazioni di qualità per cui se ti è piaciuto questo video commenta sotto lasciaci un like ma soprattutto iscriviti subito al canale per rimanere aggiornato e per vedere tantissime decine e centinaia di video come questo che ti possono aiutare a partire più velocemente con Amazon e ora è arrivato il momento dove ti darò il secondo pezzo del codice che fa Udine Savona Ancona 21 lasciami un commento un like iscriviti al canale e io ti saluto sono Vadim Virlanco fondatore di Scuola E-Commerce e ti aspetto sul nostro canale nel prossimo video ciao ti mando un grandissimo abbraccio ciao 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 Grazie per la visione!